... naturalmente il primo trofeo per il vincitore di questa quindicesima edizione dell'Ezzelino d'Oro naturalmente il presidente del cantare vi farà Minato, Renato c'è pronto Renato? Ti tremano un po' le mani? ... attenzione, signore e signori, vince l'edizione, la quindicesima edizione dell'Ezzelino d'Oro ... le ha dato un... ...o da qui, siiii! ... gli abbiamo fatto uno scherzo, Marvini, anche la Giulia è un po' pazza oggi eh, vi avete visto, solo di far con noi li abbiamo un po' tirati qua, scusate allora famiglia, adesso scegli eh scherzi a parte scherzi a parte, scherzi a parte vince la quindicesima edizione dell'Ezzelino d'Oro quello che mi aspetto da te ... e per far con la Cristina e per i pari Andrea ben dimentico che noi l'avevamo intuito l'avevamo intuito infatti, bravissime Cristina e Andrea andate verso il pubblico e prendetevi l'applauso bravi amanti guardate ci sono anche le gattine, fatemi i metti piangenti dai bravi amanti ... kans è sempre l'applauso nox mi сказать Dio di far il contello di far beh amanti ne pense averezza vuoi tutti i tuoi l' conventionsi avanti che buttano il che i tuoi l' Idol di farce bene esma riposta Tutti insieme, tutti insieme Quello che ne è mai un giorno che mi chiedeva In queste volte che mi chiedeva Tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme Quello che ne è certo, quello che ne è certo Quello che ne è certo, tra le loro inizia Ricordiamo che il premio pisa 25 kg Bravi ragazzi, a sostenere il peso lo tenda a vittoria E adesso cedo un attimo la parola alla maestra Michela Sarà bravissima perché so che siete tutti stanchi Però io non potevo non ringraziare i bambini Di questo meraviglioso parola Che siete voi cari bambini Un grandissimo applauso Siete stati bravissimi Bravi Mettetevelo tutto perché ve lo meritate Forza, forza, forza Forza, forza Bravi Bravi Sono molto contenta dei bambini Grazie ai genitori Perché voi ci seguite sempre Senza di voi non possiamo fare niente Perché ci portate i bambini alle prove So che ogni tanto vi spesso Grazie, grazie per la vostra presenza Vi ringraziamente li hanno fatti loro Io vi ringrazio Non voglio lasciare fuori nessuno Ringrazio tutti quanti Ma appunto soprattutto loro Perché a me danno sempre tantissima gioia Grazie Finite per voi C'è un'altra piccola sorpresa Oltre al guano per la cena C'è un piccolo regalino Solo rosa Ma no, ma li abbiamo presi a giro d'Italia Bambini rosa a giro d'Italia Allora, mentre distribuiscono le nostre assistenti I capellini Volevo ringraziare anche la giuria Tutti quanti Sabrina Stefano Francesco Michele Simonetta Grazie Grazie di cuore Perché arrivano anche da distanzissimo Quindi vi ringrazio veramente Orgami hannoci dato una mano Grazie Volevo ringraziare anche Margherita Margherita vieni qua Perché lei arriva da Milano Ogni anno Sono affezionatissime alla nostra manifestazione E vengono qua ogni anno a trovarci E quindi ringrazio anche loro